Ciao ragazze, benvenuti in un nuovo video. Oggi è il primo di aprile e andiamo con uno svuota la spesa. Ecco qui ragazze la mia spesa, un po' l'ho appoggiata qui. Adesso vi faccio vedere subito che cosa ho preso. Abbiamo anche un pochino da questa parte. Come sempre sono stata all'Ecom per fare un po' di spesa per questo weekend che si avvicina, weekend pasquale. E vi faccio vedere subito lo scontrino. Ho speso 92,96 euro. Ok? Partiamo subito, vediamo che cosa ho preso. Allora partiamo da qui. Dunque ho preso la vaschetta Ecom Gusta alla Gusta che comprende salame, coppa e crudo. Ne ho già un'altra vaschetta in frigo ma comunque questa è veramente troppo buona. Poi una confezione, forse due perché l'altra è dall'altra parte, mi è rimasta. Sempre della mia bresaola mitica Rigamonti. C'erano in offerta della Polli, i carciofini tagliati, questo per condire la pizza o la pinza. E anche i funghetti sempre della Polli. Una confezione di latte, parzialmente scremato di Val Gardena. Abbiamo due confezioni di patatine. Allora queste io le amo perché sono con meno sale, sono light. Comunque sono buonissime perché sono quelle casarecce artigianali. Quindi sono quelle col pacco rosa. Poi un altro pacco di patatine salati preziosi. Queste invece sono quelle grigliate. Andiamo avanti. Ho preso una confezione di Kinder Delice per la colazione. Ecco la pinza romana che tanto apprezzo, tanto amo perché è veramente leggerissima. Proprio il nome nuvola veramente è un nome azzeccatissimo. Andiamo da questa parte. Allora qui ho preso, vabbè qui ho preso 3 kg di carne quina che è la carne che do a Joy, mio cane. Quindi la sposto direttamente perché tanto non serve. Abbiamo 3 confezioni di mix yogurt Muller più anelli al cioccolato. Ne ho prese 3 confezioni. Ho preso poi Igor, il dolcetto che mi piace tantissimo, la mascarpone gorgonzola. Ho preso una confezione di stracchino del case edificio del borgo. Questo è molto buono, molto cremoso. Abbiamo l'altra confezione che vi dicevo di Bresaola. Due confezioni di Robiola Nonnonanni, la trovo buonissima. Più buona ancora di quella della Robiola Osella perché la Robiola Osella è molto acida. Mentre questa ricorda un pochino anche la ricotta. Quindi mi piace molto. Ho preso poi una tagliata di pollo. Oggi faremo delle piadine. Era in offerta. Poi andiamo avanti. Abbiamo polpa fine derica. Questa la utilizzo per la preparazione della pinza insieme alle olive nere. Queste sono quelle spagnole. Scelta oro sempre per condire la pizza. Nello stesso modo metterò anche la mozzarella julienne. Ideale per pizza. Andiamo avanti. Ho preso una confezione di scaglie di grana padano da mettere appunto sulla presaola. Una confezione da 6 uova extra fresche. Oro. Poi ho preso un barattolo di pangrattato perché l'ho finito e non ne avevo più. E infine, no, infine no, perché ho ancora delle cosine. Ho l'arrosto. Allora, qui ho speso dalla macelleria 23,59 euro. Qui dentro troviamo la carne da fare all'ucceletto che è una ricetta tipica genovese. che noi la facciamo con i piselli. E anche l'arrosto che fanno loro tipo bone roll, per intenderci, con scamorza e speck. Questa roba poi magari la prendo in giro, visto il weekend lungo pasquale. Ho preso tre mascherine FFP2. Due rosa e una nera per mio figlio. Poi, qui troviamo l'acqua farina, che sarebbe la piadina romagnola all'olio d'oliva, dove ce ne sono tre. Poi, non ho trovato quelli della mulino bianco, ma penso che questi siano gli stessi. Sono sei multipap con all'interno i pancake, che sono un po' molli. Mio marito sostiene che siano molli, però sinceramente a me piacciono. Eventualmente uno si può fare questo tipo American Breakfast. Gli può scaldare un attimino nella padella antiaderente. Però, ragazzi, io ci ho provato l'altra volta, ma tra un po' veramente bruciava tutta la casa. Si bruciano in un attimo. Detergente intimo neutro, medio e delicatezza. Una confezione di gocciolotti balocco. Qui abbiamo invece le insalate. Insalata. Questa qui è un insieme di ortaggi. Vediamo radicchio rosso, pan di zenzero, cicoria, spadone, porro. Buonissima. Poi, aspettate che qui mi cade tutto. Abbiamo qui lattuga fresca. Questo lo volevo provare perché è il cavolo cappuccio misto. Colori misti, quindi un po' bordeaux e un po' verde. Allora, la mia spesa finisce qui. Fatemi sapere se anche voi siete andati a fare la spesa e se la spesa vi mette angoscia, vi mette ansia. Ultimamente mi mette un po' d'ansia. Fatemi sapere che spesa avete fatto e commentate, mi raccomando, sotto i miei video perché vedo che molti di voi abbiamo raggiunto quasi 3.500 iscritti. Mi fa molto piacere. Però dovete commentare sotto i video, mi raccomando, siate un po' più partecipi e niente. Quindi, buona spesa a tutti voi e vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!